Ospite di Rosso Blu, format in onda su Antenna Sud Extra, Antonio Romano, centrocampista del Taranto, traccia il bilancio in casa Ionica. Siamo partiti un po' col freno a mano, inutile regarlo, le prime prestazioni non lasciavano ben sperare un po' tutti, poi come ho detto prima è arrivato il mister, ci ha dato una quadratura, ci siamo messi a posto in mezzo al campo, abbiamo iniziato a pensare partita dopo partita, e lavorando tanto, perché lavoriamo tanto, siamo riusciti a riprenderci in maniera netta. Centrocampista col vizio del gol, Romano però punta a dare ancora di più. Prima che mi infortunassi stavo veramente bene fisicamente, poi stando un mese firmo comunque ti cambia un pochettino, sto lavorando anch'io per ritornare quello che ero, perché non sono, detto tra qui, non sono abbastanza contento delle mie prestazioni personali. Infine una disamina su Capuano, parole dell'oggio le sue nei confronti del tecnico. Ci ha dato una quadratura, ci ha messo a posto in campo, poi secondo me siamo anche una buona squadra noi, però lui è bravo a tenerci sempre sul pezzo, a martellare, a farci allenare sempre a 3.000, la sua dote principale è questa qua, e non è poco, anche allenatori a volte si adagiano su certi risultati.